Albano, vero nome Albano Carrisi, e Romina Power Romina Power e Albano si stanno avvicinando sul palco e nella vita, sono già diventati inseparabili, come ai bei vecchi tempi. Annuncio pubblicitario. Romina Power, 67 anni, e Albano, 75 anni, si stanno avvicinando sul palco e nella vita, sono diventati inseparabili, come lo erano quando hanno formato uno dei duetti di maggior successo nella musica internazionale. Sono già di nuovo una coppia e prometto che saranno sempre così, recentemente si sono esibiti insieme in uno spettacolo sul canale televisivo italiano Canale 5. Si sono tenuti per mano, hanno ballato, il divorzio è scaduto, ha detto Romina, poi ha iniziato a pugnalare il suo compagno, Albano è un po' tremante, non vedi come si veste, è colpa di Romina, le piace scherzare così, ha risposto la famosa cantante italiana. Romina Power e Albano si stanno avvicinando sul palco e nella vita, non c'è dubbio, hanno ripreso a cantare insieme, ma nessuno pensava che ci fosse amore tra loro e Romina Power ha ammesso, Albano, mi ama ancora, e io lo amo ancora. Romina Power e Albano sono tornati sul palco e vivono insieme. Tutti pensavano che la storia d'amore tra i cantanti Albano e Romina Power fosse finita, l'anno scorso si diceva addirittura che avesse sposato la conduttrice televisiva italiana Loredana Lecciso, 46 anni. E Romina ha presentato al mondo l'americano Brian Sweeney, come suo partner, nel 2016, tuttavia, recentemente ha fatto una rivelazione bomba, che cambia completamente tutto ciò che era noto. Romina ha detto che il loro amore durerà per sempre, si amano come all'inizio, anche se hanno attraversato un divorzio e un periodo difficile in cui, per anni, non si sono parlati. Hanno cantato insieme per la prima volta ancora a Mosca, nell'ottobre 2013, poi sono saliti entrambi sul palco in altre occasioni, tra cui Bucharest, nel 2014, nel 2016 sono stati visti come moderatori dello spettacolo, così lontani così vicini di casa, al canale televisivo di Rai 1. Romina Power e Albano, da nessuno stadio e compagni di vita che hanno divorziato nel 1999. Albano e Romina Power si sono conosciuti nel 1965 a Sanremo, si sono piaciuti a prima vista, ma lei ha fatto il primo passo, ha iniziato a inviarle centinaia di rose rosse e ha composto canzoni appositamente per lei. I successi cominciarono a scorrere, grazie ai successi, ci sarà, Sharazan, Felicità, si sono sposati nel 1970 e hanno dato alla luce quattro figli, Ilenia, nata nel 1970, Iari, 43 anni, Christel, 31 anni, e Romina Yolanda, 29 anni. La famosa coppia si è sciolta in seguito al divorzio nel 1999, causato dalla scomparsa della figlia, Ilenia, nel 1994, negli USA, Albano ha sempre accusato Romina di aver iniziato a far uso di droghe alla figlia scomparsa. La famosa coppia si è sciolta in seguito al divorzio nel 2019, causato dalla scomparsa.